Per quanto riguarda la spiaggia, penso che voi avete visto che le capanne le stiamo eliminando. Le famose capanne che almeno fino a qualche anno fa era oggetto di una corsa. Io mi ricordo il mio suocio in periodo di capanne spegneva il telefono, ce lo alzava, perché era talmente subvistato di telefonate per raccomandazioni, che non c'era una abbastanza per tutti. Quindi c'era una lista lunga, chi voleva passare avanti, chi si raccomandava, era una cosa impossibile. Oggi c'è sempre, non nella stessa maniera, anche perché la crisi è forte, devo dire che la clientela delle capanne non è una clientela top, come si pensa, è una clientela di famiglie, medio-bassa, che la capanna la usano come se fosse una villa al mare e lo dividono. Noi diciamo che ci sono dieci ingressi per ogni capanna, ma io sono certa che sono parecchi di più per ogni capanna, perché poi controllare la gente che arriva dal mare è difficile. E quindi io penso che in ogni capanna ci sono parecchie famiglie, quindi dividono la spesa e quindi per ognuno viene niente. Niente, cioè tu con un euro al giorno hai un posto al mare. Quando è diventato amministratore delegato mio marito, che diciamo non si era occupato in passato della società, lui è qui dal 2005, ha creato questo masterplan intanto come primo approccio e ha cominciato a fare le spiagge attrezzate. E le spiagge attrezzate, devo dire, sono gradite, perché intanto lì noi riusciamo a dare un servizio, cosa che è completamente quasi impossibile dove sono le capanne, perché c'è una tale massa di gente, gente che corre, bambini che giocano, che noi animazione non riusciamo a farlo nella zona cabina, mentre invece nella zona attrezzata c'è l'animazione, c'è la ginnastica, c'è la zumba, c'è il pilates, ci sono i giochi per i bambini, insomma c'è un programma di animazione. In più la gente arriva alla sedia, ha l'armadietto per posare le cose ed è più comodo, onestamente, io penso, per chi viene dalla città. Quindi noi contiamo di allargare queste spiagge attrezzate sempre più e farle anche diverse, cioè differenziarli. Vogliamo fare la spiaggia VIP, quindi una spiaggia dove, praticamente già dall'anno scorso abbiamo i mobili pronti, comprati, l'anno scorso non siamo riusciti ad avere tutti i permessi, abbiamo le piscine idromassaggio che devono stare sulla spiaggia e lì sarà un trattamento VIP, diciamo, dove tu arrivi, c'è la collazione pronta, ci sono i giornali, ci sono le persone che ti badano, che ti servono e quindi per un pubblico, diciamo, benestante. Però vogliamo fare anche la spiaggia low cost, cioè la spiaggia dove tu vai e hai il minimo indispensabile, hai il salvataggio, hai un bagnino e poi hai l'ombra e ti puoi sdraiare con il tuo, come si chiama, asciugamano e questo, e magari hai le macchinette dove puoi tirare una cola o un'aranciata, quello che vuoi, insomma, per poter andare al mare anche senza spendere molto.